il cesena di mister cecarelli non vuole mollare la vetta del girone b e la vittoria al vismara sul campo del milan rafforza il concetto di squadra solida e pronta a duellare con le big del raggruppamento il tris bianconero è pesante anche se i rossoneri in realtà non demeritano e sfiorano subito il vantaggio con una schiacciata di testa di daniel maldini fuori di poco il cesena gioca bene ma non punge e allora ci prova ancora la squadra di lupi con un tiro di frigerio a sbloccare la situazione parata difficoltosa per santo polo ma porta blindata esattamente il contrario di quanto si può dire della difesa rossonera su rilancio alto e lungo da centrocampo indecisione fatale di martin bianco e zannellato colpo di testa di farinelli a superare il portiere e 1 a 0 referto al minuto 30 il milan avrebbe subito la possibilità di riportarsi sul pari ancora con maldini nuovamente impreciso però al momento decisivo su assist di haidara dalla sinistra ma sono le incertezze difensive della squadra di casa a costare la sconfitta anche ruggeri come i compagni di reparto in precedenza apre la via della propria porta agli avversari che non si fanno pregare e con un gol strepitoso di el buali a pochi minuti dallo scadere del primo tempo raddoppiano senza pietà sempre con il sinistro ma stavolta mirando all'angolino basso in avvio di ripresa e poi holzer a confezionare un altro bel gol nato come attaccante e adattato nella sua esperienza milanese a centrocampo il ragazzo di rovereto sta dimostrando di avere ancora ottimi margini di crescita ed è uno dei singoli migliori in questo avvio di campionato per il milan non basta lui però ai rossoneri se anche bomber tonin decide che è una giornata degna di questo tipo di tiri decisamente non all'altezza e allora ci pensa nico manara al quinto centro in sei giornate a tirare giù la saracinesca grande spunto a tre quarti di sami assist per il compagno e diagonale letale per zanellato il cesena si porta dunque alla sosta con un bottino di 16 punti su 18 disponibili non male davvero per una delle candidate al titolo di sorpresa dell'anno dal centro vismara per la giovane italia luca brivio